musica 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 ciao a tutti e bentornati sul canale di Sara Sara saluta vabbè Giovanni sta prendendo saluta io ho visto però le mie gara sono imponenti Sara si sta per fare il tatuaggio siamo testimoni musica 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 come ti senti Sara? felice quando c'hai già un video solo l'ora infatti vuoi spiegare alle persone cosa che stai per tatuare oppure saranno una surprise? poi lo vedranno ma già da quello che avevamo già detto eh? megani forse si ricordano fai vera ciao ciao ero stai sempre presente ma che non può lasciare il suo ade comunque guardate quanto bella questa stanza musica musica posso toccare il mio dread? ma che cosa ma che cose sono non ce la posso fare non ce la posso fare ora che ce la volevo chiedere già da ieri però mi sembrava male io penso che Giovanni si sa mangiato qualcosa che non si ma secondo me c'era qualcosa di una torta io so cosa è la zucassella da piccola da piccola però ma lui è proprio così ce l'ha vedi Giovanni con la cana non è finente ora sei pronta? si ecco io stavo in posto della foto però si sono pronta due intavista lo avete portato si santa vedi le 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 Oggi sarò la protagonista dei profili di Facebook e tutt'uando di tutti quanti. Cos'è la cosa stai sentendo Sara in questo momento? Eh, la classica sensazione dei tatuaggi. Ti stai facendo male? No, non mi sta facendo male. Lo consigli ai tuoi telespettatori? Sì, te lo consiglio. Ho intervistito i criti di Giovanni mentre stai in questa posizione. Cos'è da dire? Che è tutto molto bello, però io ho l'ansia, c'è stato più l'ansia di lei. Veramente, ragazzi. Non deve stare tranquilla, è rilassata. Mi sto facendo le pensazioni. Esatto. Ciao a tutti e bentornati a un altro pezzo di vlog. E da finire il mio vlog senza di me! E certo! E vieni! Ma io non lo so, ma qua povertà proprio! Giovanna c'è qualcosa da dire? No! Non so se la conoscete, ma di sicuro vi ricordate che lei è la cameraman di sempre. E questo è il mio vlog! Sta praticamente facendo tutto Giovanni perché... Ci sono anch'io qui! Io non sto... Salve! Ciao! Come si traduce hosting in italiano? Ospitando? Sto ospitando il tuo vlog? Sto ospitando il tuo vlog! Stai conducendo tutta la settimana? Esatto! Giulia, ci vuole cosa da dire? Io sto passando le foto meravigliose che abbiamo fatto oggi. Sì, perché abbiamo fatto il photoshoot. Quindi seguiteci su tutti i social! Sì, ho fatto il photoshoot però... Stava del piove quindi non abbiamo vloggato niente perché... Comunque, iscrivetevi al mio canale! Dai che poi sto facendo il conduce... il conduttore, quindi... Ne lo stiamo facendo fare solo perché... Solo perché sto usando la sua canola, non c'è nessuno. Oh no! E stasera andiamo a mangiare la pizza! Facci vedere il tuo tattoo! Aspetta che mi devo dire! Eikei denudati! Uppu! Aspetta lo tappavo! E come si vede Regiseno? Sì, si vede! Vabbè ragà, ciao Regiseno vediamo! Eh, noi siamo senza pudore! No vabbè perché comunque a farvelo vedere lì era! Non è che cambia posto! Comunque ci vediamo dopo! Adesso andiamo a mangiare la pizza! Pizza! E poi a vedere un paese qui vicino! Esatto, che si chiama? Isola! Forse non lo dovresti dire! No, non è isola! Va bene! Bisogna vedere! Sì! A vero comunque sapete adesso dove potete dare il resto il grave sala! Ahahahah! Ma c'è tanto che vivo alpino? Cioè fondamentalmente! Ahahahah! Arpino titi! Alpino village avevamo detto! No! Village è la civita vecchia! Ma pure alpino! I'm not your babe! I'm not your babe! I'm not your babe! Alejandro! I'm not your babe! I'm not your babe! Alejandro! Ma secondo me lo metti il copyright! Sto accanto la tua canzone! Ma non credo! Comunque vabbè se becchiamo... No! Tomorrow! Se becchiamo dopo! Ciao! Sara c'è qualcosa da dire! Vive tatuaggi! Vive tatuaggi! Evil life! No! Brought into the core! So viaggiata! Brought into the core! I'm brought into the core! Ciao a tutti ragazzi! Abbiamo appena finito di cenare Sara! Ciao ragazzi nel mio blog che ormai viene sempre iniziato da Giovanni perchè... non sono a fuoco! perchè io... praticamente... niente... la macchinetta è la sua win! Mi inizia lui e ne abbiamo mangiato la pizza! E le ho lasciate nei fritti anche se non l'abbiamo finita! Siamo delle brutte persone! Ci siamo anche noi! E praticamente ormai... Giovanni si doveva ripreso? E invece si ha ripreso! Grazie! Grazie! E niente praticamente abbiamo mangiato la pizza, siamo pieni! Come va Yali? E adesso andremo a vedere questa cascata che sta in un paese, vi ho fatto vedere giocando alla Ludica! E... E' Pontana! Tutta la cascata! Pottana che stavano riguardando ieri! E' Pontana! No perchè mi devono sempre fare brutti insomma! Non è vero! Perchè? Perchè? Perché la gente li guarda male nel ristorante! Ma questo è normale! Scusa un attimo! E adesso dopo la cena li ho portati a vedere l'unico paese con la cascata dentro in Europa! Wow! Quanto mi direi qua! Quanto grande! Boh vabbè comunque qualcosa di figo! E ora vi gireremo verso la cascata! Wow! C'è peccatevi sti spicci? Boh vabbè! Guardate! Guardate dove si vive la natura! Mamma mia! Zoomiamo! 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 Anche viola! Le acque viola della cascata! Chantal ti pensiamo sempre! Valtor sempre con noi! Se ne ha volaccia per una canzone venuta! Guardate! Guardate! Ciao a tutti ragazzi! Questo è il giorno dopo! Stesso vlog! Ma di due giorni alla fine! Perchè ieri eravamo stanchissimi! E non abbiamo finito di vlogare! Ma siamo venuti al lago! E ora sono sparite tutte! Cioè! Momento video e le papere spariscono! Sembra ovvio! Ma non ci sono! Ma test! Perfetti! Will Aaron Day sarebbe poco fiero di noi! Insomma! Il cappello non è mio! Trabranzi! E niente! Questo è il lago di Posta Fibrano! Vi ho portato a vedere il lago! Riprendi Ludovica! Ora ci facciamo anche altre foto! Riprendo con Fabrizia! Questo è il ragazzo di Sara! Saluta! Ehm! Quindi! Lo potete vedere anche nel video del secret santa! C'era Fabrizio! Però non ci nascondeva! Perfetti mi piace se volete i boyfriend tag! Esatto! Vi prego fatelo! Vi prego! Vi prego! Vi prego! L'impressione voglio! Allora! Scrivete qua sotto che volete il boyfriend tag! E se lo volete scrivete delle domande di coppia da rispondere sui libri boyfriend tag! Vabbè! Oppure Twitter! Dove vi pare il snapshot! Dove vi pare? Difficili però! Mi raccomando! Vi lascerò difficili! Perché lui non li indovinerà mai! Cioè si conoscono da 5 anni! Quindi dovete fare i difficili! Stanno insieme da 5 anni! Quindi fate i difficili! Altrimenti non sarò! Vi lascio anche i contatti di Fabrizio! Tipo l'Instagram le cose! Se volete andarlo a seguire! Si chiama fab-ohab! Ohab! 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 ad accompagnare questi si innamorò Ludovica sta in bagno in realtà alla sozione a prendere l'autobus e quindi questa sarà la fine del vlog magari poi riprendiamo qualcosa quando arriva Ludovica forse si esce dal bagno nel 2013 e si spero che il vlog vi sia piaciuto metterò ovviamente i link nell'info box del canale di Giovanni che è di Ludovica ma penso che li conoscete ormai già tutti e si il video finisce qua noi ci vediamo alla prossima ciao ragazzi che carini romanzi